Ciao! Salve, io mi chiamo Peppere e sono qui per aiutarti a compilare l'anamnesi necessaria a capire se potrai fare il vaccino o se dovrai rivolgerti al medico. Ti prego di accomodarti sulla sedia qui davanti, di indossare i guanti e di togliere la mascherina. Mentre indossi i guanti, io ti osservo un momento per capire qualcosa di te. Io sono un bravo osservatore, ma qualche volta faccio degli errori. A me pare che tu sia maschio, è corretto? Sì. Ora puoi rimettere la mascherina? Allora possiamo passare a raccogliere un po' di dati su di te. Mi sai dire il tuo peso in chilogrammi? Ottanta. Se ho compreso bene, tu pesi ottanta chili, è giusto? Sì. Ora avrei bisogno di conoscere la tua altezza, quanti centimetri sei alto? Centottantasette. Se ho ben capito, tu sei alto centottantasette centimetri, ho detto bene? Giusto. Adesso sono in grado di dirti che il tuo indice di massa corporea è... 22.9. Il tuo valore è compatibile con la somministrazione del vaccino. Alle domande che ti porrò, dovrai rispondere con un sì o con un no. In alcuni casi potrai anche indicare la tua risposta toccando il mio tablet. La prima cosa che ti chiedo è... Sei malato? No. Ok, ora ti chiedo un'altra informazione. Hai la febbre? No. Perfetto, ora ti chiedo un'altra informazione. Soffri di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o alle componenti del vaccino che vedi sul mio tablet? No. No. Ok, ora ti chiedo un'altra informazione. Ti è mai capitato di avere una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino? Ehm... Direi di no. Ok. Soffri di una delle malattie che vedi elencate sul mio tablet? Ok, andiamo oltre. Ti trovi in una condizione di compromissione del sistema immunitario in merito alle problematiche che leggi sul mio tablet? No. Ok, passiamo alla prossima domanda. Negli ultimi tre mesi hai assunto farmaci che indeboliscono il sistema immunitario, o altri tipi di farmaci particolari? Sul mio tablet puoi vederne alcuni tipi? No. Perfetto, ora ti chiedo un'altra informazione. Durante lo scorso anno hai subito o ricevuto uno dei trattamenti mostrati sul mio tablet? Direi di no. Bene. Hai avuto attacchi di convulsione o qualche problema cerebrale o al sistema nervoso? No. Passiamo alla prossima domanda. Hai ricevuto vaccinazioni nelle ultime quattro settimane? No. Perfetto. Stai assumendo farmaci anticoagulanti, integratori naturali, vitamine, minerali o eventuali medicinali alternativi? Sì. Ok, ho registrato questo fattore critico. Bene, adesso passiamo alla seconda e ultima parte relativa al Covid. Come prima cosa, vorrei sapere se nell'ultimo mese sei stato in contatto con una persona contagiata da SARS-CoV-2 o affetta da Covid-19? No. Andiamo oltre. Hai tosse, raffreddore, febbre, displea o sintomi simili influenzali? No. Bene, passiamo alla prossima domanda. Hai mal di gola o problemi di perdita dell'olfatto o del gusto? No. Perfetto, ora ti chiedo un'altra informazione. Hai dolori addominali o diarrea? No. Passiamo alla prossima domanda. Hai strani lividi, oppure arrossamento o sanguinamento degli occhi? No. Bene. Hai fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo mese? Sì. Ok, ho registrato questa criticità, ora ti chiedo un'altra informazione. Sei stato sottoposto a un test Covid-19 negli ultimi mesi o anche di recente? Sì. Ok, il risultato del test è sempre stato negativo? No. Ricordi quando hai ricevuto l'ultimo esito positivo al SARS-CoV-2? Indica, toccando il mio schermo è periodo corretto. Bene, molto probabilmente riceverai un'unica dose di vaccino. Le mie domande finiscono qui. Secondo le informazioni che ho raccolto, visto che hai viaggiato all'estero e che assumi alcuni farmaci, devi consultare il personale sanitario che si trova in questa struttura a cui trasferirò immediatamente i tuoi dati. Insieme a loro sarà valutata la possibilità di proseguire con il protocollo di vaccinazione. Grazie per aver parlato con me e arrivederci a presto. Grazie Pepper. Arrivederci. Ciao. In base ai dati che ho rilevato, la persona che ho appena intervistato andrà a parlare con il personale medico, molto probabilmente potrà essere vaccinata. Ho colto nel suo stato emotivo la felicità dell'essere qui e contribuire in prima persona alla lotta contro il virus. La campagna di vaccinazione deve proseguire nel modo più spedito possibile. E anche noi robot facciamo la nostra parte. Grazie a tutti.